Embolo già non stava bene, ha provato a riscaldarsi, ha sentito qualcosa e a quel punto abbiamo deciso di cambiare un po' tutto. Braglio c'è rammarico per questo pareggio perché in una gara tutt'altro che bella eravate riusciti a sbloccare il risultato con un Pescara in difficoltà, probabilmente potevate fare meglio, invece avete subito il pareggio dopo appena tre minuti e lei si è molto arrabbiato, giustamente? No, Scognamiglio ce l'ha di questi numeri, lo conosco anche troppo bene, è stato un go, onestamente ha fatto anche un bel go perché su una punizione laterale così e riuscire a mettere la palla là, ha fatto veramente un bel go. La partita non abbiamo mai corso rischi, abbiamo sempre cercato di gestirla noi con le nostre possibilità, ci mancavano tanti giocatori, questo è un punto per noi importante dopo due sconfitte che ci permette prima di tutto di respirare, di recuperare i giocatori durante la sosta e poi cercare di salvarsi il primo possibile. La partita perché con il 3-5-2 non avete praticamente concesso nulla nel primo tempo al Pescara che si è limitato a un tiro di Monachello dalla distanza, nel secondo tempo con l'inserimento di Bellini, Bellini è stato molto bravo a controllare questi palloni che arrivavano alti e forse lì la partita si è un po' riequilibrata, è d'accordo? Sì insomma hanno fatto 10 minuti loro dove nel secondo tempo ci hanno messo in difficoltà specialmente sulla sinistra loro perché c'aveva un bitante che non stava bene e poi c'era un ragazzo del 99 che all'inizio andava a dare l'appoggio a Bellini e lui si girava e lo spostava, al momento in cui ha capito quello gli ultimi 20 minuti abbiamo gestito bene la gara, non abbiamo più corsi rischi. Braglia dopo il forfè dell'ultimo istante di Embro lei ha un po' mischiato le carte, ha proposto e ha messo in campo una formazione un po' a sorpresa, la quasi stravolta rispetto a quello che poteva sembrare alla vigilia e così facendo ha messo in difficoltà il Pescara? Io non so se l'ho messo in difficoltà o meno, noi si è fatto di necessità virtù perché avevamo dei problemi, siamo abituati a giocare a tre, l'abbiamo fatto per un anno e mezzo, non è quello il mio problema, il problema nostro è che a volte pensiamo di essere troppo bravi e pigliamo gli schiaffi. Perciò dobbiamo continuare su questa strada, andare avanti e cercare di salvarsi. Faccio l'ultima perché è richiesto il tecnico Braglia, all'andata non ha avuto peli sulla lingua dicendo che la palla di Crecco non era entrata, volevo sapere sull'episodio del rigore il tocco di mano di Graviglione. Il direttore mi ha detto, ha visto al telefonino e ha detto rigore netto. Però l'andata eragone, questo era rigore, ma l'andata eragone. Allora per me, io non so se era rigore stasera perché non l'ho, ecco a posto, è un eragone nemmeno lì. Vai, c'è un online tecnologico ma io, un retico Madrid, dai. Ascolta a me, c'è un segnaline dritto così, no, ha visto lui, aspetta, sì ma si fa per scherzare, l'ha visto uno da fuori aria a 10 metri.